bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi voglio fare la recensione del macbook pro che ho comprato in queste ultime settimane devo dire che è un mac davvero fantastico diciamo su quasi tutti i punti di vista iniziamo dalle note negative visto che sono davvero poche l'unica cosa che non mi è piaciuta tanto è lo spazio ci sono solo 128GB il modello parte da 1500€ e diciamo la memoria disponibile all'interno del computer è di solo 128GB che sono pochissimi io adesso nel mio Mac Mini ho 500GB di memoria e diciamo che per l'uso che faccio non mi bastano infatti ho dovuto attaccare un harddisk esterno invece le note positive sono davvero molte diciamo che io per aprire Final Cut nel mio Mac ci metto 5 minuti e anche molti di più anche se è un Mac Mini late 2015 e invece nel macbook per aprire Final Cut ci metto neanche un secondo perché se vedete ragazzi l'ha già quasi aperto questo è un grande vantaggio perché diciamo che posso migliorare il tempo di editing e quel tempo lo posso utilizzare per fare altri video come già sapete sono andato in Croazia e non mi sono portato il Mac perché era una vacanza quindi non mi andava di stare lì a editare e montare video quindi adesso verso la fine di agosto devo fare un'altra vacanza in cui devo andare in Puglia dai miei nonni e quindi sicuramente mi porterò questo Mac diciamo che il suo scopo è proprio quello la portabilità e la velocità di questo Mac adesso ho perso il filo del discorso vabbè diciamo che questo Mac è un ottimo dispositivo a parer mio nella confezione troviamo il Macbook troviamo anche il caricatore e questo Mac è davvero portatile perché al contrario del Macbook normale non il retina il retina è quello che ho preso io pesa solo 1,58 kg e invece il Macbook normale pesa 2,6 kg quest'ultimo ha anche uno spessore di 2,41 cm al contrario di quel Macbook retina che è quello che ho io che è alto solo 1,8 cm questi fattori lo rendono molto portatile e quindi rendono anche più semplice l'utilizzo diciamo che ero indeciso tra comprare il Macbook Pro e il Macbook retina io diciamo ho scelto il Macbook retina perché posso diciamo che prendendo la versione late 2016 avevo l'ultima versione quindi c'era installato El Capitan e non faccio come il mio Macbook con il mio Mac mini che da Iosemite l'ho portato a El Capitan e ci sono stati un sacco di problemi che ancora adesso ho infatti uno di questi giorni dovrei resettare tutto il Mac perché non mi trovo per niente bene invece il Macbook Pro retina uscendo già con El Capitan è tutto ottimizzato e funziona tutto alla perfezione questo problema di El Capitan quando uno passa da Iosemite a El Capitan l'ho sentito da tante persone e quindi credo che farò anche una guida su come installare di nuovo Iosemite in questo Mac abbiamo anche un sacco di porte abbiamo tre porte USB uno slot per una SD due porte Thunderbolt Thunderbolt abbiamo anche due porte Thunderbolt e il caricatore l'unica cosa che diciamo mi manca è la webcam full HD infatti in questo Mac c'è solo una webcam a 720p diciamo che è HD però se Apple metteva una telecamera full HD era stato veramente grandioso diciamo che questo Mac anche non viene aggiornato da un sacco di tempo saranno due o tre anni che questo Mac non è stato aggiornato e diciamo che in commercio come vi ho detto prima c'è ancora il Macbook normale il Macbook Pro che ancora costa un sacco di soldi costa 1200 euro diciamo che io sono riuscito a premere il Macbook Retina in un negozio alla cifra alla stessa cifra c'è 1200 1200 ho preso questo che era molto più nuovo e performante infatti ha anche 8 giga di RAM ed è un i5 io direi ragazzi che questa diciamo recensione non è tanto una recensione ma è quello che penso io su questo Macbook diciamo che finisce qui e noi ci rivediamo in un prossimo video bella ai